L'ultima in ordine di tempo è la sospensione della gara di calcio femminile di Serie A tra la Puglia Trani e la Lazio a causa del sopraggiunto buio. Lo stadio comunale di Trani infatti non ha l'impianto di illuminazione ed una gara iniziata male con oltre un'ora di ritardo per problemi con l'arrivo del direttore di gara sostituito in corsa è finita peggio con la sospensione della gara ed il rinvio a data da destinarsi partendo probabilmente dal primo minuto. Gara sospesa a 20 minuti dalla fine e su di un prestigioso risultato di 0 a 0 per la Puglia Trani. Ma la situazione delle strutture sportive tranese è di quelle complesse all'ennesima potenza. Dopo i lavori di ristrutturazione dello stadio comunale per esempio resta un manto erboso tutto da rivedere ed i danni provocati dai due raid vandalici a distanza di pochi giorni ad inizio anno 2017 che hanno letteralmente distrutto sia il magazzino interno che le panchine in campo. Un bigliettino da visita senz'altro da censura, situazione che non migliora a distanza di pochi metri dall'ingresso del comunale e cioè nel tenso statico di via Superga, struttura con tanti problemi e da sempre utilizzata soprattutto per il volley. Stesse problematiche rilevate anche nello storico Palassi tra incuria, deperimento e rabbia di società ed atleti costretti ad allenarsi in condizioni a dir poco fatiscenti.